Vodafone Music Night in D'Arsenal, io ci sono, venite a ballare con me? Yes! Benvenuti a questa Vodafone Music Night, benvenuti! Ciao amici, buonasera! It's a wonderful, wonderful life! No need to run away! It's a wonderful, wonderful life! Ampena finito, che cosa c'è? Giuliano Parma qui live, Vodafone Music Night, lo vedete? Questi sono gli applausi dei suoi fan, bravo! E' un fotografo per mia mamma anche, Rita! Vodafone Music Night in Darsena, volevo salutarvi, è sudato ma ne sono cambiato, è stato molto bello, emozionante come sempre, ciao a tutti!